ciao danessio benvenuto benvenuto in questo nuovo video dove ti farò vedere come edito un'immagine con luminar neo ottenendo questo risultato partendo però da questo come vedi l'immagine e location era sicuramente molto molto bella ma l'immagine necessitava di un miglioramento e ti farò vedere come ho ottenuto questo con l'ultima versione di luminar neo con l'ultimo aggiornamento rilasciato gratuito per tutti i possessori luminar neo che ha introdotto nuove funzionalità miglioramenti eccetera però non andremo a fare un video dove ti farò vedere tutte le varie differenze della versione precedente ma ti farò vedere come edito questa immagine quindi andiamo proprio sulla pratica prima di iniziare però come sempre ti chiedo di sostenere il mio progetto e poi farlo iscrivendoti al canale mettendo un click sulla campanella se dopo vuoi qualcosa in più vuoi sostenermi in modo diverso poi entrerò fra parte del club in modo da poter accedere ai miei video in anteprima senza pubblicità e poi anche accedere al mio gruppo telegram dove sono presente sempre parliamo veramente di tutto ma adesso andiamo sul desktop del mio computer ed eccoci sul desktop il mio computer ho già aperto luminar neo e questa è l'immagine che andremo a modificare andiamo a vedere come era l'immagine all'inizio l'hai visto anche prima questa è l'immagine iniziale questo è il risultato finale come puoi vedere la modifica è importante e spicca sicuramente tra tutte quel cambiamento del cielo prima che tu prenda le distanze dall'idea di cambiare il cielo sulle immagini direi che devi ragionare un attimo innanzitutto ci sono due tipi di interventi quelli che non hanno senso e quelli che sono contestualizzati questo è un intervento di quelli contestualizzati il cambiamento del cielo ci sta e non va ad alterare in modo da rendere innaturale l'immagine stessa e poi sono tutti interventi che adesso sono introdotti su tutti i software quindi un fondo di verità c'è non dobbiamo sempre prendere distanze da certi tipi di intervento questo è un intervento contestualizzato che ci sta quindi io vado ad inserire questo cielo adesso vediamo come ho fatto tutti i passaggi per arrivare a questo risultato vado a reimpostare riportare l'immagine alle condizioni iniziali vado qui sotto su azioni e riporto originale mi trovo ovviamente nella scheda modifica di lumina il primo passaggio che vado a fare è la sostituzione del cielo perché è quello che va a colpire di più l'immagine soprattutto voglio sostituirlo all'inizio per poi fare tutto l'editing contestualizzato con tutta l'armonia dei colori gli elementi all'interno dell'immagine quindi vado a prendere lo strumento cielo e vado a selezionare uno dei cieli disponibili ci sono varie schede raccolte dramatic sunset e vado a prendere il cielo numero 5 eccolo qui dramatic sunset numero 5 verrà applicato sull'immagine già noti una cosa e come lavora luminar neo in pratica ha applicato il cielo vedi prima dopo ma anche contestualizzato adattato tutta la luminosità della scena infatti ci sta benissimo e da qui in avanti vado a fare le modifiche di sviluppo eccetera tra l'altro va anche ad inserire il cielo riflesso sull'acqua che è una cosa stupenda e rende molto naturale questo tipo di intervento bene il passaggio successivo è quello di migliora con ai vado sempre a dare un colpetto di questo intervento perché guarda vedi migliora tirano sistematina l'immagine con luminar neo funziona molto bene quindi vado a utilizzare questo valore lo porto intorno al 50 ti darò dei numeri tondi in modo da avere dei riferimenti però magari di mettere a disposizione i file qui sotto nelle note dell'episodio vediamo se ci riesco ma non prometto nulla vediamo prima dopo vedi che l'intervento c'è il passaggio successivo è quello di fare lo sviluppo dell'immagine quindi vado a prendere lo strumento sviluppo e cominciò a fare i miei interventi faccio un intervento soprattutto sulle luci e le ombre sulle luci vado a ridurle per togliere un po di luminosità e direi che un valore intorno a meno 40 ci può star bene vado però anche a migliorare leggermente le ombre perché l'immagine ha delle zone un po troppo scure d'ombra tipo queste vedi che posso schiarire quanto poco faccio un intervento piuttosto leggero un valore 10 può starci bene vediamo prima dopo vado a dare anche un colpetto di contrasto intelligente vedi aumento per rendere un po più contrastata l'immagine che a me piace direi che un valore pari a 40 esagero un pochino in questo caso vedi prima dopo perché mi piace l'aumento del contrasto ti aumenta anche leggermente la saturazione come effetto collaterale quindi mi piace questo tipo di intervento ora vado a prendere lo strumento paesaggio quindi andiamo qui qui ho vari slider a disposizione per migliorare il paesaggio correzione foschia ora dorata migliora fogliame io mi concentro su correzione foschia dove do un valore vedi qui aumento un po vado a togliere quella patina sull'immagine un valore pari a 15 ci può star bene su questa immagine ci vado anche a dare una dominante vedi gli da un po di colore ora dorata ovviamente non esagero ma un valore pari a 10 potrebbe andar bene vediamo prima dopo l'intervento c'è ci sta bene ora vado a fare un intervento sempre sui colori per dare un po di sostanza all'immagine vado a sfruttare uno strumento tra quelli professionali che si chiama armonia dei colori vado a prendere questo strumento ho veramente tante cose a disposizione io andrò a lavorare innanzitutto con brillantezza quindi vado a dare un colpetto di brillantezza vedi cosa succede aumentano anche quell'intensità di colori ma non dobbiamo esagerare un valore pari a 5 veramente poco ci sta bene 5 6 mettiamo 5 ok vediamo prima dopo ma l'intervento più importante vado a farlo su bilanciamento colore dove posso fare degli interventi specifici dove su ombre mezzi toni e luci le ombre non vado a toccarle ma vado a toccare i mezzi toni dove do un colpetto qui su ciano rosso verso il rosso vediamo 15 valore 15 e adesso si comincia a vedere l'intervento guarda come prende sostanza all'immagine colore poi vado sui sulle luci perché mi interessa colpire soprattutto la zona più illuminata di questa scena dove anche qui vado a lavorare sul ciano rosso e da un valore pari a 10 sul ciano rosso e poi vado a dare sul valore magenta verde vado a togliere un po di verde e quindi vado a dare un meno 10 eccolo qui vediamo prima dopo vedi che adesso ho preso anche quella dominante leggermente magenta tipica del tramonto molto molto carina il passaggio successivo è quello che va a colpire questa zona più in basso a sinistra della mia immagine perché è quella un po più scura di tutta la scena quindi vado utilizzare lo strumento sviluppo che ho qui a disposizione per attenzione applicherò una maschera vado su maschere e scelgo una maschera lineale scelgo questo strumento per dirgli vai a colpire questa zona maschero praticamente gli dico dove dovrà fare l'intervento in quest'area lo allargo un pochino e lo chiudo e cosa farò cercherò di schiarire un po quelle ombre che sono eccessivamente scure quindi torno su aggiustamenti e vado su ombre e qui si aumento parecchio il valore vedi schiarisco quella zona che valore do un valore pari a 70 potrebbe andar bene e vado a darci anche un colpettino di contrasto non esagero molto vediamo ok direi che un valore pari a 20 è sufficiente andiamo a vedere prima dopo prima dopo vedi com'è migliorata quella parte dell'immagine ora sostanzialmente ho terminato il mio intervento ma faccio un ulteriore utilizzo di uno strumento colore per migliorare questi colori quindi andiamo a prendere lo strumento colore eccolo qui e andrò a utilizzare non tanto saturazione di vividezza ma quanto gli hsl che tu potresti averli compattati scompatta hsl ti permette di lavorare sulla tonalità saturazione luminanza cosa faremo noi andremo sulla tonalità per fare delle modifiche andremo a modificare l'arancio il giallo e il verde in particolare sull'arancio vado a spostarlo un po la tonalità un po più sull'arancio più intenso un valore pari a 10 potrebbe andar bene vado i gialli a spostarli più verso i gialli aranci piuttosto che i verdi vedi posso per questa modifica e vado a dare un valore pari a meno 40 e per concludere vado a lavorare sui verdi perché ci sono delle dominanti verdi anche qui all'interno però senza esagerare direi che un meno 10 ci potrebbe star bene vediamo prima dopo prima dopo vedi sono interventi leggeri ma che fanno la differenza e con questo io ho terminato l'editing della mia immagine vediamo com'era all'inizio era così alla fine ecco il risultato vedi tutto il processo che ho adottato per editare questa immagine con luminar neo e direi che ho fatto pochi interventi sono stato abbastanza veloce adesso anche rallentato un pochino per spiegarti i vari passaggi ma in realtà se prendi mano sei molto veloce la cosa più difficile luminar neo è saper quali strumenti utilizzare perché ce ne sono talmente tanti e questa cosa si impara con la pratica soprattutto non devi farti prendere magari dall'eccessiva voglia di provare tutti gli strumenti altrimenti viene fuori un casino solitamente quando hai tanti strumenti l'importante è saper scegliere quello adeguato per questo video è tutto se ti è piaciuto ricordati di metterci un like e condividi eventualmente questo video aspetto dei feedback qui sotto nelle note dell'episodio fammi sapere cosa ne pensi noi ci vediamo al prossimo episodio il prossimo video di questo tipo anzi fammi sapere se ti piacciono questa tipologia di video dove vado ad editare le immagini ciao da Alessio